E di Rovazzi il primo singolo dell'anno? Ritorna con niente, è per sempre secondo Fabio Rovazzi, siamo tutti politologi, ma molti di noi non sanno neanche cosa significhino le parole che compongono il nostro inno nazionale. C'è qualcuno che si ammazza? Ho la soluzione in tasca? Non chiamo l'ambulanza? Filmo? Mi sono tagliato con la carta? Il panino ha troppa salsa? Chissà come si sta? In Ucraina. Conseguenza è la riflessione, non succederà più, almeno per me, che il tempo che ho lo uso per ostinarmi a dare un senso a tutto quando poi banalmente, dell'elmo di Scipio nessuno sa niente? Dice nella nuova canzone. Un brano nato anche dall'esigenza di sottolineare quanto sempre più spesso ci soffermiamo sulle banalità, dando molto più peso alla superficialità e a ciò che si vede piuttosto che pensare alle soluzioni dei veri problemi e ai Grazie a tutti.